La situazione sicuramente pandemica è delicata, stiamo monitorando come comitato provinciale assieme al prefetto e al questore di Pesoli Urbino l'evolversi della situazione e ci manteniamo in contatto per capire quali saranno le restrizioni future. E' chiaro, noi puntiamo, adesso abbiamo un grande evento, la festa nazionale della Befana Urbana, avevamo previsto un evento di fine anno a Carpegna, cerchiamo di capire quali saranno le restrizioni, se si potranno fare, noi ci auguriamo di sì, perché stiamo ragionando su questo. Diciamo che abbiamo avuto un grande successo, che è andata veramente molto bene, oltre le aspettative per una fase pandemica molto delicata, che ha visto impegnati tantissimi volontari, ma nello stesso tempo ha visto anche un ritorno economico nella nostra provincia, pur essendo una situazione di difficoltà e quindi le presenze sono calate di oltre il 50%, questo siamo onesti, ma abbiamo fatto un grande lavoro di promozione che sicuramente raccoglierà i suoi frutti i prossimi anni. Aspettando gli eventi post natalizi ci sono stati quasi 20 giorni di tante iniziative accompagnate anche da un volano promozionale importante, quello con Gianmarco Tamberi. Sì, Gianmarco Tamberi, il testimonia del Natale che non ti aspetti, lo vedrete in questi giorni su tutte le reti televisive nazionali e anche su tutte le radio, rappresenta le marche, rappresenta il Natale che non ti aspetti, perché il Natale che non ti aspetti è un progetto del Comitato Provinciale Proloco Pesorubino, ma è un progetto che rappresenta tutte le marche, perché i turisti non vengono solo a vedere i mercatini di Natale, ma vengono a vedere le bellezze e le eccellenze delle marche, anche grazie alla grande promozione. E qui un sincero e sentito ringraziamento al Presidente Francesco Acquaroli e alla Giunta, all'Assessore Francesco Baldelli e anche ai consiglieri regionali per il grande lavoro, per il grande supporto che la Regione Marche, assieme anche al Direttore di Compartimento, Dottor Raimond Orsetti, stanno dando un grande supporto alle nostre proloco, ma soprattutto in particolar modo un grande supporto al nostro territorio, al motore economico del nostro territorio, all'economia di tutto il comparto agro, anche agroalimentare, della nostra bellissima provincia, che abbiamo delle eccellenze veramente culinarie, di grande valore, che possiamo ancora promuovere, ancora di più, grazie alla Rete del Natale.